Si attende per il primo pomeriggio l'elettroencefalogramma del bimbo di 15 mesi ricoverato al Vito Fazzi a Lecce che rischia la vita probabilmente a causa dell'influenza AH1N1. L'esame dell'attività cerebrale è stato effettuato per capire se il piccolo versi in condizioni di morte clinica, stadio ultimo di una degenza finita all'attenzione della magistratura. A seguito dell'esposto alla Procura della Repubblica presentato dai genitori dell'infante una giovane coppia di Castromediano, frazione di Cavallino, che sarà ascoltata probabilmente domani dal sostituto procuratore Roberta Licci. Il magistrato indaga per capire se fosse giusta la diagnosi sul bimbo. Il piccolo era già stato portato una prima volta in ospedale il primo gennaio scorso per la febbre alta e gli fu prescritta una terapia da somministrare a casa. Ora si indaga sul perché il bimbo, tornato in ospedale e ricoverato, abbia contratto prima la gastroenterite, poi l'otite, poi una infezione alle vie respiratorie e successivamente abbia perso conoscenza. Per fare chiarezza il magistrato ha disposto il sequestro della cartella clinica relativa al piccolo che è ricoverato nel reparto di rianimazione. Due volte al giorno i genitori si recano in ospedale per vederlo e quotidianamente alle 12 ricevono ansiosi il bollettino medico.